Carina Rodriguez, presidente Arci Ragazzi Vicenza, questo fine settimana del 19-20 novembre Arci Ragazzi Vicenza festeggia i 20 anni di attività in città. Un bilancio di questo periodo di lavoro? Allora possiamo dire che questi 20 anni si concludono e iniziano con tante attività nuove e vecchie che continuano. Il lavoratorio d'arte che è stata la prima attività associativa continua a esserci, si fa il lunedì alla Exe Scuola Ingiusti e questa è stata la nostra prima attività in città e continua a esserci. Poi si sono aggiunte altre, abbiamo fatto anche progetti internazionali di scambi e sì, diciamo le attività crescono e i volontari anche. Quindi possiamo dire che il bilancio è positivo. Ha visto un incremento della partecipazione da parte dei ragazzi? Sì, però bisogna dire che bisogna abituare i ragazzi a partecipare. È una cosa che si educa fin da piccoli e che non tutti sono abituati a fare. L'educazione attraverso il gioco, come previsto da Compasito, il manuale europeo per i diritti dell'infanzia, ha una buona risposta in città? Sì, soprattutto con i ragazzi che hanno fatto già la formazione, con i ragazzi dell'associazione che hanno fatto la formazione, sì. Per il resto è una cosa abbastanza nuova, quindi bisogna diffonderla. Progetti per il futuro? Cercare una sede nuova, sicuramente, dove possiamo rivolgere tutte le attività che possiamo proporre ai bambini. Grazie a tutti.